Domi, conosci Teddy? Teddy chi? Teddy è il nome classico che i bambini danno agli orsacchiotti ed è diventato la mascotte di un bellissimo negozio che ha ospitato un casting per bambini. Take a look! Se dovessi descrivere a qualcuno questa esperienza, cosa diresti? Che è un'esperienza molto bella, nuova, improvvisa e divertente. Anche per i bimbi mi sembra molto positiva. Il mio era abbastanza eccitato, aveva voglia di fare queste foto anche se appunto in macchina mi diceva mamma ma pensi che riesco perché sono molto vergognoso. Quando vai a fare shopping? Pensi come vorresti vestirlo tuo figlio oppure lo vesti come veramente? Entrambe le cose sicuramente, un po' come piace a me, egoisticamente ma anche a seconda della personalità del bimbo. Io cerco di dargli dei suggerimenti però lei ormai ha già i suoi gusti. Di solito mia figlia decide da sé quali vestiti le piacciono e ha una idea ben chiara di come vestirsi, quindi io posso intervenire poco. Punti, più sull'economia dei capi o più sulla qualità? Decisamente sulla qualità. Perché sono molto propensa a prendere cose buone, con materiale buono dove magari col fatto che vengano lavati molto spesso questi capi preferirei rimanessero così come sono nel tempo. Ti sei divertita? Tanto. Io tanto. Moltissimo, moltissimo. Mi piace la moda. Mi piacciono le modelle e poi mi piacciono i vestiti, tutto. Per me la moda è un esprimersi. Fantasia. Stile, creatività.